sempre solo istintuale, istinto o nasometrica come dicono ogni tanto qualcuno riportiamo un po', ci rifacciamo un po' a quello che non mi ricordo, questo non lo scrivete non mi ricordo chi, era uno che diceva credo in Dio tutti gli altri portino i dati ogni tanto serve anche una sorta di misura di quello che si sta facendo per quello che ci fa anche piacere fare disclose, condividere con voi dati che riguardano anche altri brand perché secondo noi comunque crescere tutti insieme fa sempre bene